Amici del Guy Grossi Fiorentino, Guy Grossi e Liz, siamo a Panzano in Chianti, io sono Dario Cecchini e lei mia moglie, Kim Cecchini, un saluto a tutti da Panzano, godetevi la cuscina di Guy e di Liz, che è fantastica e in onore vostro e in onore di Guy e di Liz un pezzo della Divina Commedia, il quinto canto dell'inferno, Paolo e Francesca, noi leggevamo un giorno per diletto, di lancia all'otto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso a esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me mi fia diviso, la bocca mi baciò, tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, da quel giorno più ve ne leggemmo avante, mentre che non spirto questo disse l'altro piagnea, sì che di pietade io venni me, così come io morisse, e cadi come corpo morto cade. Un saluto a tutti da Panzano, e buon appetito, e viva Gai, viva Litz, e viva Gai Grossi Fiorentino, viva l'Italia, viva gli amici, viva la ciccia, to beef or not to beef, danse se questo. Pizzabaila e Samone! Pizzabaila e Samone!